Un nuovo calciatore della Nazionale Azzurra? No, non è un nuovo calciatore, è uno stanco dopo una settimana di lavoro per preparare questo evento. Manca davvero poco, quanto lavoro è stato fatto dietro a questo evento? Beh, sicuramente la prima cosa da dire è ringraziare tutti quelli che si sono tirati sulle maniche in questi 10-15 giorni per preparare questo bellissimo evento. Credo che tutto sia a posto, speriamo che sfili tutto come deve andare, il tempo è eccezionale e quindi pronti via. Quante persone sono attese oggi? La sfilata, se tutti i gruppi mantengono quello che hanno detto in maniera preventiva, dovremmo essere oltre 300 persone. Abbiamo anche ospiti importanti, tra cui Bette, Galdafini, Max Brardone, Max Losio, Triussi, il cantante della solidarietà. Insomma, davvero un evento che va oltre lo sport. Sì, un evento che racchiude tutta una comunità, la voglia di fare questa comunità, è stata premiata dalla presenza di questi grandi campioni del passato e anche attuali. Sicuramente Roberto Bette, che è il nome più antisonante, ha concesso la sua presenza domani qui al campo sportivo di Piedimolera con l'orario di questo nostro grande lavoro. Il sogno che avete nel cuore? Il sogno che è quello che è stato preannunciato in questi giorni, sarebbe importante nel 2024 essere in grado di portare gli europei di montagna, a Bergdorf, nella nostra valle. Anche perché la sinergia con Macugnaga è davvero concreta. Sì, è una sinergia, è un modo di pensare comune, che assieme a tanti volontari, la sportiva di Piedimolera in primis, che senza dire sicuramente non avremmo fatto niente, una maniera di unire anche la valle, da cima in fondo, speriamo di portare a casa questo grandissimo evento che farebbe lustro a tutto il nostro territorio.